bene a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio incredibilissimo di outlast siamo di nuovo qua con l'ascensore con andrea c'è anche l'ascensore non salute un maleducato di merda continuo ciao oliviero amma bene eravamo appena scappati da marta quella che io chiamo la puttana in tutti i titoli perfetto con lavoro doveva se seduce non girare con l'infrarossi sono sprechi chiamavano quale la quindi fai di tutti i due si potevano farlo anche un po' più veloce ma non ti muovere sono finito di quanta ma era uguale no scuola il suo lavoro del tuo è un po' fai siamo a est di qualcosa troppo c'è un po' troppe case fai com'è cazzo e mazzilare un po' inizio sto impazzendo se ne so lo so conto sto impazzendo si c'è un rumore si c'è un coglione buongiorno buona sera dai adesso dice che cazzo fa andare questo è il tricino che io gli ho consigliato di scappare con questo però non mi scuola ma questo qua c'è dei rametti in testa bello oddio carne però non c'è un colpo se non hai sento qua stai impazzendo in qualche modo perché vede cose strane che cazzo ma non è un po' ma perché dentro un pozzo c'è un condosso con le nuove normative si che cazzo che cazzo ti prego ti prego e che cazzo non lo permette che cazzo che cazzo cazzo ancora scuola che cazzo di parola dai ragazzi ci sono appena stato ma io appunto sono per uscinto non lo fa basta fai tendo che tu trovi la lolli davanti fai tendo che tu trovi la lolli davanti fai tendo una batteria e le parole torce non le prende mai sono tutte per tutta la mappa ma non le prende no un piccolo cieco però che la porta bloccata l'avevo intuito no sbagliato prendo qualcosa di da cazzo ma che vabbè mamma lì e beh quindi quindi innanzitutto ti iscrivi al canale al canale chiuso come sempre no la cosa dove cazzo vado più di qua lì prova lì ci lasciano qua per sé vabbè vabbè eh che cazzo che si sta qua no non sono un pedofilo andateli là vai segui segui è bravissima come prima fai filma non andare avanti che se non scomparmi più cazzo no ho polpo di prima vado dall'altra parte no che palle che bella è male datemi il 5 che strusso 2 o 5 aspetta ma queste qua non si aprono mai 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 ma tanto sono state tutte chiuse Dio eh vaffanculo è un deficiente vabbè vabbè vaffanculo vabbè 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 c'è una cosa su questi sindi ci mettono più tempo suo castro no 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 muoviti che cazzo batterie no che è voto c'è un po' foto adesso meglio per noi ma ci vediamo visto cazzo non c'ho io e che ne sa c'è io? eh no però eh bellissimo ma è un ciccio molto dai arrivi a soltare no è genius no si si qua 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 che vai qua a casa? ah me lo puoi succhiare riesco anch'io a far così aspetta ok 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 nasconditi sotto un colore sotto un letto come si fa? ah ok ecco c'è sempre lui che ho fatto il giro no non è possibile non è possibile non è possibile non è possibile nel livello nel livello nel livello nel livello nel livello no dove andare uno di quelli là che qua fa il giro di vede subito ma adesso ha visto veramente vabbè fanculo io no non è al caso ah ah eh prezzi no 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 ma non corre bastardo ci penso io adesso mi ha capito qua ti devi nascondere aspetta c'è ancora qua nasconditi mi sta volta che che di le youtube testa le 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 che le non ti vedrà mai ma davvero ah fanno il giro ragazzo è dai carri vabbè mi hanno una corretta più veloce di terra va 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 sei spurbo sono spurbo ok calma un po ce l'avevo fatta anche no non l'avevi fatto accanto al tuo trono no ok ok solo che l'hanno sfondato la porta non c'è più a morire e dove va andato apparsi una canna eh però non viene mai da lì non c'è più a morire non c'è più a morire non fa fare niente forse devi fare da lì devi fare dall'altra parte poi non ok non c'è più a morire e ti è andato allora con l'altro ma non lo dico no è bloccato qua che c'è qua che c'è non c'è più a morire 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 il capoluogo del neolitico no c'è un dei forconi da sotto spunturi cosa mi sta arrivando da dietro secondo me la parola è che cazzo devo fa che ti devo andare non credo che sopravviata ah shit ah shit si tocca di un paio di palle ti immagino se non è comodo di uno da qui e poi fanno la scenetta dove c'è quello là che cade ho quasi da leggere però mentre leggo no eh Dio sa ciò che ho fatto cazzo e mi obbliga a riviverlo nei momenti di debolezza e paura non è colpa mia se Giudan non sapeva notare nel fatto che mi desiderasse tanto l'avrei salvato se fossi stata abbastanza forte non dubito di te o Dio ma ti prego di risparmiarmi la sofferenza di tali sogni anche quando sono sveglia non posso continuare a vederlo affogare porca madosca perché lui non affoga subito ci mette sei anni comunque vero non ci metti su cioè non muori subito no però ci metti un minuto che cazzo non è che poi accetta la mia morte come penitenza perché sono da poco incinta del figlio di Popak Not tutti lui Mosco Gamer è sempre online ciao Moschini è prostrata prostrata da dolori mai provati prima il bambino che porto in grembo deve essere sicuramente il maligno il maligno maligno a giudicare dagli incubi dell'agonia che mi forme che mi tormentano sempre tua tua di chi? di sti coglioni qua sotto? eh di buonasera di papà di papà sì ma questo è da un po' così ma sono questo rumore sì vabbè c'è una luce beh vuoi fissare la luce per un bel po' tutto il gioco benissimo un saluto a tutta Cagliaipor no e qui giocava Andrea perché è bravissimo che caga sotto eh sì c'è il vataggio la teglia sempre utile apri non è aperta come al solito guarda qua ci sono nasconditi per il futuro no non c'è un cazzo quindi se devi scappare da lì non scappare qua buonasera beh eh credo che c'è qualcuno a sinistra no vedo nessuno ma qua prima che succedesse tutto sto lavoro ci rilevano no 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 penso che tu ne hai anche uno dietro ma vabbè è arrivato sto qua via 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 ma che cazzo è arrivato sto qua oh Anzi, fattere a camera la prossima volta Voglio vedere come fai Non so stare lì, tutta la lì Tanto su stanno spaccando la porta che tu hai chiuso Cioè non mi vede? No, ti vede, infatti sta lì Tu sei sterile e non hai figli Ma concepirai, cioè Dovrei fare figlie Eh figli, grigli Che non cagli Ancora sto spagando la porta, un silopo per la porta lì, baggato Nascituro, vai, cacca Con la porta lì Ma poi dove è spugnato, io c'è lo spugno Ma sì, infatti, da dove cazzo è arrivato Forse dallo dormendo non c'è un po' Buonasera Sì, vabbè, non è che non c'è sta qua, fatti i cini delle fighe Eh non cade? Ma dai Dai, gioca ancora che ho giocato sempre io Perché? Ma se io dove metto io? Sì già lì Ma non tornare indietro, forse c'è da uscire Chiudi No, non credo No, non credo Prova di Ah E' da lì Corri perché qua ti arrivano da fuori Ah Si, vai 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 Pesci王 pesci Via 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 via, corri Anche dove dove dirmi andare? Corrie, ah, mica non ce lo venghi Corri e la chattola giù mo e io ce l'hai dietro che ha scolato anche lui no? si si ce lo dico a volte che non lo mongo e riconoscendo anche altri oh c'è un qualcuno ah ti sta si vabbè vincami shot se mi blecca se mi blecca corri 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 saca che cazzo c'è? oh no non mi fermerei io però no mi fermi cazzo no dovevo andare devi 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 gioco devi eh ma io sono andato no ma ci sono andato quattro volte di tutto ma pure che mi bevo lì a casa ho fatto una tutta intanto saluto a tutta Cagliarino muoviti muoviti entro muoviti io sta cosa qua se non c'è di tenua la facevo mai nella vita no mi sa che da lì finalmente non possono entrare saranno un po' di estremamente gazzi loro adesso ciao 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 ciao